In Italia la percentuale di infermieri ogni 1000 abitanti è di 6,2 unità, un valore che mette il nostro paese al quart'ultimo posto in Europa. È il primo dato critico messo in risalto dal sindacato Nursin nel suo bilancio annuale, derivato dall'analisi sul rapporto osservatorio a conti pubblici italiani delle università cattolica. Un valore medio nazionale confermato anche per il Veneto, che per la nostra regione rappresenta un'ulteriore criticità. Abbiamo un rapporto infermieri ogni 1000 abitanti che è di seconda fascia e non di prima, siamo assieme a regioni tipo la Sardegna, siamo circondati da regioni tipo Friuli, Trentino ed Emilia Romagna che hanno un rapporto migliore. Si rispecchia rispetto al numero di medici, il Veneto è nella fascia più bassa rispetto a tutte le altre regioni italiane. Secondo il Nursin, la regione ha un problema di attrattività di sistema. L'alto valore del rapporto infermieri-medici è un dato fuorviante che non punta alla qualità dei servizi. Il Veneto delle eccellenze mediche specialistiche non basta, secondo il sindacato, per offrire una prospettiva positiva agli utenti nei prossimi anni. Sicuramente sono invidiate in tutta Italia. Quello che ci preoccupa veramente è quello che succede prima e dopo questo atto di eccellenza che non regge, non c'è la presa in carico. Se pensiamo che abbiamo 670 zone scoperte di medici di medicina generale, con più di un milione di utenti e di cittadini veneti che non hanno un medico di medicina generale, si capisce che l'atto chirurgico in se stesso non risolverà mai questo problema. L'assalto di pronto soccorsi, verificato sia anche durante l'ultima festività, è un segnale preoccupante che potrà ripetersi sempre più spesso se non verranno governate le chiusure di massa degli ambulatori nei periodi critici. Fondamentale sarà rendere la sanità pubblica concorrenziale rispetto a quella privata. All'ospedale San Bortolo mancano 60 infermieri. L'Ussotto sconta le difficoltà che scontano tutte le aziende sanitarie, quella di reperire professionisti. Ovviamente sconta anche il fatto che il territorio non tiene e che i professionisti che lavorano all'interno di alcuni settori dell'Ussotto sono letteralmente sfibrati. Più di qualcuno sceglie la strada del privato. Un dato certo è la questione salariale, nel senso che bisogna intervenire in qualche modo sugli stipendi e sull'organizzazione del lavoro.